Presidente, per giustificare l'esistenza del problema del consigliere Gizzi che ci raggiungerà breve, grazie. Grazie. Lo chiediamo in consigliere il casco, prego. Attimo. Grazie Presidente, mi dispiace che manda l'assessore Milka Cappello, volevo sollecitare l'assessore Cappello, la quale ha preso un impegno ufficiale per l'installazione del posto invalido nei confronti della mia cittadina nei quasi 90 anni, Canareggi, Presidente a Pia Luce Ferro. Ad oggi questo posto invalido ancora non c'è, ma a questo punto l'assessore Cappello deve dire che cosa deve fare, sia un potere decisionario presso gli uffici o se l'assessore è un'altra yes man che scalda la poltrona. Grazie.